Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di Forza Horizon 5 È una mattina tranquilla qui a Guanajuato Potete anche notare la signorina sul balcone che fa finta di non vedere Cesarino sotto che le fa la corte Cesarino è ignaro di quello che succederà oggi, infatti è venuto così in centro a farsi un po' i fattacci suoi Anche un po' in incognito con questa normale Toyota Celica Ma noi l'abbiamo sgamato perché ha lasciato i fari accesi e ha parcheggiato contro mano mezzo sul marciapiede come un tamarro Ora però lo richiameremo al rapporto perché è una giornata importantissima per AM4R E vi dirò, questa bellissima Toyota Celica non c'entra una minchia Mentre Cesarino fa finalmente ritorno alla base, spieghiamo un po' quello che succederà oggi Perché abbiamo una di quelle giornatine tematiche di AM4R E ultimamente stiamo facendo spesso e bene e che ci stanno rendendo ancora più interessanti I capitoli della storia Horizon E allora ragazzi, oggi AM4R è incaricata di esplorare un vulcano attivo Così ci gustiamo anche un pochettino di scenari di questo Messico, di questo Horizon 5 Dopo aver messo le mani, dopo esserci impossessati l'altra volta di un mezzo davvero esclusivo Ora tocca a noi farne uno perché naturalmente noi non è che prendiamo e andiamo a esplorare il vulcano Prima di andarci ci facciamo il mezzo adatto Sperando che poi ce lo facciano usare Ma noi lo facciamo Vediamo un pochettino allora Accettiamo il lavoro, l'offerta che ci fanno L'apertura di che? Di Alejandra? Ailà Ramiro mi ha rassicurato con questa sua chiamatina Perché quello che voglio fare oggi in preparazione alla Vulcanata E proprio preparare un fuoristrada esclusivo Che potrebbe essere tranquillamente il Bronco Altrimenti l'unico altro in realtà sarebbe Questo qua era una specie di, era un relitto no? L'abbiamo trovato nei capannoni Questo GMC Jimmy del 70 Che è bello cattivo Anche se boh Il Bronco è una delle auto iniziali come la Mercedes Vi ricordate? La Project One Che a noi era riuscita particolarmente bene Vediamo se riusciamo a fare la stessa cosa con un bel Bronco E visto che verrà utilizzato per questa avventura Potremmo rinominare in Bronco Magma Magari una versione adatta con antisquagliamento incorporato per la lava Tanto questo qua, dov'è che mi stai portando? Vabbè, lì naturalmente Però dovete aspettare un attimo, piccolo navigatore Questo Bronco ha decisamente bisogno di più potenza Però sicuramente un 4x4 molto adatto Parlando di gare fuoristrada Avete sentito Ramiro, no? Direi che potrebbe essere il mezzo idoneo Fate le valigie ragazzi e mi raccomando non dimentichiamo nulla Nemmeno la nuova level appena Soprattutto in una giornata come questa In cui andiamo ad esplorare un vulcano Direi che stare un pochettino freschi Con la nuova Polar Edition potrebbe farci molto molto bene Ma non si tratta solo del nostro vulcano Bensì abbiamo qui proprio lei Perché esce esattamente oggi E fino al 18 si porta dietro una promo pazzesca Del 30% con il codice NU su Level Up È una buona scorta da fare per andare a esplorare vulcani Il Bronco si sta preparando ragazzi Ad essere modificato attentamente Per andare a scalare pendici incandescenti E noi d'altro canto ci prepariamo A vedere com'è questa Polar Edition Che dovrebbe essere al gusto di Caramella congelata Non ne ho idea di cosa significhi Ma è super buono Novità assoluta eh Mi raccomando E adesso bronchiamo Ma monta un vuoto secondo voi questo bronco? Sembra quasi di... No Però oddio in realtà si Soprattutto da qui dentro sembra già di... Partiamo subito dalla fine allora Dalle conversioni del motore Qua avremo bisogno di una grande spinta E un 4x4 puro super fuori strada Sicuramente dovrà fare... Allora vediamo un pochettino V8 6.2 Però perde i cavalli Che comunque ne ha parecchi no? Questo bronco di suo Ecco questo 5.000... DSC Cattivissimo questo Però 189 cavalli Grande guadagno E sotto si va ancora peggio 3.77 Tutti vuoto? No questo è un V6 Ok Non ce lo vedo però Sembra una JDM così E l'ultimo è un altro V8 Più 1.277 cavalli Più 1.277 cavalli Quindi rispetto ai suoi Quanti ne avrà sto coso? Per essere un rampicante di sto livello 3.400 Oh mio dio Beh ovviamente no Trazione posteriore te lo puoi tenere E ok Comincia a piacermi molto questo bronchino Attenzione Addirittura un po' Ma non sembra un Mercedes GL così? Non lo so perché Molto fuoristradistico Nel senso per andare a esplorare un vulcano Ci starebbe quasi bene no? Una roba del genere Però Questo assolutamente no Eh no Eh no Il gommone di scorta Che fai se ti si squaglia il copertone nella lava Non lo cambi? Queste Minigonne Do stanno? Infatti immaginavo Al solito nelle minigonne ci mettono anche gli extra E oddio la sirena blu Fa tanto polizia Potremmo mettere questa? Color lava Così Mimetizzarsi in mezzo alle scintille vulcaniche Che cazzo ne so Sul cofano invece Non mi piace quello lì sopra Però Quelli davanti così Led un pochettino più moderneggianti Quasi quasi sì Dovremmo prendere una scelta sul muso Ma Sapete cosa? Visto che non ci sono altre incazzature varie sul perimetro della vettura Per così dire Ma io lo lascerei quasi fuori È vero che ci starebbe Idealmente Però vabbè Non è che senza questo non è più un fuoristrada efficace Lasciamo perdere quella barra lì Dai Mettiamo solamente i led aggiuntivi discreti qua sopra E il mega lampeggiante su Che non per qualche motivo Mi piace Andiamo a vedere che cosa succede per quanto riguarda i super gommoni Sono uguali però Aderenza più 13 Ma anche Anche fuoristrada Anzi guadagna tantissimo Più 1 e 1 Perfetto Si è abbazzata la macchina Non capisco perché I fuoristrada ragazzi di solito Hanno gommoni super larghi Però Vedo che In realtà Qui la cosa a lui fa piacere Quindi va bene Aiutiamo anche un pochettino la cattiveria E aumentiamo i gommoni Vediamo quanto è ridicolo coi mega cerchi Questi andrebbero lasciati piccoli Infatti direi che lo facciamo Al massimo glieli possiamo sostituire Con qualcosa di più leggerino E bello Questo secondo me Ben 13 kg Una forma che ha Che è anche di fuoristrada Colore brutto Così troppo chiaro Abbastanza basilare Ma il modello non è male Non ci sta male Poi andremo a vedere un pochettino Quando faremo i nostri bei ritocchi Come mai questo ha già un cambio auto Rapporti Installato Non ho guardato il nome completo Sarà mica un pacchetto di benvenuto Vabbè Trasmissione da gara Fa sempre bene Però attenzione al differenziale Differenziale Anche questo c'era già Differenziale Fuoristrada Perfetto Vabbè Capirai Impianto frenante In caso di discese brusche Meglio migliorarlo Qua l'assetto Eh sì Direi che lo vogliamo Qui forse possiamo andare Per il full cage Anche perché non si vede Però sai Dovessi mai rotolare giù Dalle pendici del vulcano Potrebbe essere un vantaggino Ah c'è già la riduzione Di peso incredibile Ma ha già delle cose ragazzi Ma il motore Basta così I pezzi del motore Non si modificano Ma perché abbiamo montato Questo qua da 1200 cavalli in più Stamente lui ti dice Che cazzo vuoi Pur modificare Cioè questo affare Fa 473 cavalli Che sono Tantissimi Ma ragazzi 1750 cavalli Di fuoristrada Ragazzi Cioè lui Poveretto Ne ha 473 Che sono tantissimi Per un fuoristrada 1750 Io non ho paura Ma tra l'altro Chissà che fuoristrada Impazziti Che potrebbero venire fuori Che adesso Noi avevamo giustamente Poca scelta Adesso però Tentiamo di fare Una sagomaturina Che si adatti A questa giornata Io direi Di andare verso Un bel metallizzato Bicolore Già con un sentore Lavico All'interno Un bel rosso Forte primario Con un giallo Arancio Come secondario Cerchione È abbastanza simpatico Perché ci permette Di riutilizzare I colori Proprio della macchina Con il bordino esterno Figo Praticamente questo Non è un mezzo Da pinze sportive Però il rosso Ci potrebbe stare bene Nelle varie sfumature O sennò addirittura Arancione Per la pinza Che sta comunque Lì nel mezzo Per i vetri Opto Per una cosa Che non ho fatto Quasi mai nella vita Perché non mi piace Però in questo caso Un vetro anti abbagliamento Anti accecamento Da lava Sull'azzurrognolo Così che fa super contrasto Peraltro Non è male Guardatelo Chiaramente questa era Una prima fase Di sagomaturina Adesso c'è una seconda Dove in teoria Io vorrei farlo Veramente a tema Vulcano Ma vediamo che cosa Riusciamo a fare Ricerche specifiche Sull'ava Vulcane E cose varie In realtà Non se ne hanno Ma chiaramente Con una base Del fuoco Dovremmo riuscire A cavarcela Questo qui Non so È una bellissima Sfumatura di fondo Ma perché si copre Lo stemma È un peccato O forse no Ecco io opterei Per non più Di una cosa del genere Cioè Deve sembrare Come se la ruota Macinasse Lava Ok Il che potrebbe Implicare Un nucleo Più caldo Proprio nei pressi Della ruota E poi ci vorrebbe Qualcosa di Ben fatto A livello di Tipo questa No Particelle Tipo polveri E cose varie Di certo Non possono mancare Meglio ancora questo Guarda Ad alta densità Sembra proprio Schizzare da sotto Bellissimo E con una base E con una base del genere Che si è perfettamente Amalgamata Alla vernice Dell'auto Possiamo anche A questo punto Ipotizzare Qualche altro Elemento Della livrea Un po' più Finto Tipo proprio Una brandizzazione Per questo Modello particolare Di broncomagma O broncolava Broncolava Sembra un verbo Però Brancolava Però effettivamente Noi forse andiamo a brancolare Quindi in un certo senso Insomma Vediamo se troviamo Dei loghi originali Il nome direi che è Perfetto Anzi io vi dirò Un'altra cosa Considerate le distribuzioni Varie Io questo qui Qua sotto Andrei proprio a lasciare Nero Con solo il teschietto Che ci va sopra E a questo punto È molto più bello Invece di fare Analmente la scritta Bianca Arancione forte Forse Era la più figa Sì Adesso creiamo un ponte Tra la sagomaturina Realistica E quella Così Di finzione Con questi bei quadrati Che racchiudono Tutte le sfumature Presenti E che comunque Aiutano a riempire Lì sotto No A dare un senso Non so Mi piace Perché riprende Proprio tutte le varie Sfumature utilizzate E collegano Un pochettino il tutto Dando una base Solida Ok Perché le scintille Sono così nel nulla Questo qua collega La minigonna geometrica Nera che abbiamo fatto Alla dispersione Che c'è poi Sopra È bella Anche senza Quel teschietto lì Però che cosa succede Che annoia Perché è tutto Molto caldo Così Questo pugnettino Di bianco Qui Aiuta sempre a Ravvivare il cervello Guardandola E infatti adesso Io lo ripetiamo Magari sul cofano Facciamo una roba simile Vediamo come possiamo lavorare Io quasi quasi eviterei La lava Proprio qua sopra Perché l'idea È quella che Il veicolo Venga colpito dal basso Quindi sul cofano In teore dovrebbe essere salvo Chi però Potrei vedere Riproposto volentieri Il nostro amichetto Qui Giustiamo un pochettino Il pupazzetto Ma direi che va bene Davanti e dietro Non c'è spazio per un cazzo Ma Possiamo lo stesso Però secondo me Creare qualcosa Che riporti Sicuramente questi quadrati Così con le varie sfumature Sono diventati Abbastanza iconici Per questa livrea Che facilmente Per noi Potrà diventare Un bello stemma Così Scelgo la bianca Così riprendiamo un pochettino Il teschietto Anzi No Anzi niente Perché Agostino Si è arrabbiato Ha detto che abbiamo Esaurito i livelli Da aggiungere Quindi non è possibile Volevo mettere il teschietto Bianco dietro Ma non si può più Ne abbiamo usati Troppi Ovviamente si Sono sagomaturine Abbastanza elaborate Soprattutto il teschietto Quindi abbiamo saturato I livelli In qualche modo Meno male allora Che le abbiamo esauriti Proprio alla fine Perché è pronto Quanto meno Il nostro Bronco Magma Edizione limitata Cavalca Vulcani Di AM4R Mi piace molto ragazzi Non so a voi È molto simpatico Oltre che arrogante E soprattutto Ricordiamoci Che è munito Di 1800 cavalli Immagino Potranno proiettarlo Guardate Ma è la strada Un po' di asfalto Oddio però È abbastanza Domesticato Per avere Tutta questa potenza 8 marce Raga Questo è spaventoso Cioè con la quinta Fa il 250 Bella la sirena 2,30 Sono corte le marce Giustamente Però mamma mia ragazzi Che 0-100 può avere Sto coso Mi conviene provarlo In prima Non lo so Forse è meglio In seconda Mi esplode Poi slitta troppo Però Fighissimo Dai andiamo Andiamo a vedere Sti vulcani E frattempo ragazzi Se volete vedere La televisione qua Nel bronco Non c'è problema Mentre arriviamo Cosa cazzo Ricalcoli Fidati di me Che ci abbia messo Un quarto d'ora in meno La Gran Caldera Giustamente Sarà il nome Del vulcano Proprio Ma perché Con l'RS200 Ma soprattutto Perché mi hanno inculato Sì ma io L'ho usato il bronco Vabbè L'importante è aver omaggiato La giornata Non era meglio Il nostro bronco Sì beh Vedessi che avevo fatto io Mi hanno scammato Non lo so Forse è ancora presto Non è male Quest'Rs200 Qua Ma vi è raggiunto Una strada È troppo rally Di serio così Vabbè ragazzi Quel bronco lì Servirà A ricordarci Dell'in... Oh cazzo Sta tremando tutto Aspetta Servirà a ricordarci Dell'impresa Della giornata Credo di essere più Un veicolo premio Per avercela fatta A questo punto Che cazzo c'è qua Un geyser Attenzione Lì Siamo lontani Un piccolo cratere Secondario Molto bene C'è un salto incredibile Lui che figata Però Ehi la Molto bene Stanno facendo le riprese Sì Angelica Sembra un po' fatta Però Così te lo dico Mamma mia Dov'è il mio bronco? Ecco appunto C'è un po' di casino Che siamo in tv E poi dopo Gli facciamo vedere Pure il bronco Che abbiamo ideato Per Ricordare Questa mega giornata O Cesarino Intanto Che fa divertire Giornalisti Tutto era partito Dal centro di Guanajuato Un giro 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 Grazie Sì ma non vedo un cazzo Levate stelle incontro Dei coglioni Botti Roba strane Ok Mi raccomando Cesarino Non finiamo di sotto Eh quanto era più bello Con il nostro bronco Oddio Eh che cazzo devo fare Indosso la tua termica Del vulcanologo E dove minchia la prendo? A parte che qua ho visto Un cartello Avviciniamoci alla lava Che non credo sia come l'acqua Cioè non mi posso Buttare dentro Oddio Vabbè che vuole qua Rileva terremoti Vediamo Rileva terremoti Guardalo Cesarino Ricomincia la lava L'effetto del super caldo Quindi non si vede un cazzo Non è male Ma questa? Scusi Non si può prendere? No eh La tuta non ho capito Come Come si mette Però un campione del lago Un campione del lago Cosa c'è lì? Ah questo è il bug Che diceva Ok per continuare Vai continuiamo Chi se ne frega Figo però eh Attività estrema però Immagino che Ecco Mo Vediamo la strada Oh cazzo Ma mica sta venendo tutto giù Penso pure io Ma comunque raga Ramiro sempre super attivo L'altra volta ci ha portato Nella giungla Britto Ok Don't look back Try my best Ficchissimo eh però dai I scenari sono Veramente goduriosi Mi dispiace molto per il nostro bronco Che l'avevamo fatto apposta Però vabbè Diciamo che è un memoriale Va bene? Britto Oh mi sta recuperando Bastardo No ho capito Qua si ripete la scena Esatto Eh sì Oh merda Ma dove sono Sono atterrato male però Attenzione Eh no Infatti Checkpoint mancato Mi sa che bisogna Per forza Atterrare sul ponte Oddio Che pelo che mi ha fatto ad Alex Ultimo giro Oh Il mio bronco Ecco chi me l'ha inculato La bronco l'originale Secondo il cesarino Sì guarda Dopo ti faccio vedere Un bronco serio Tra l'altro Sto specie di elicottero Senza elica Che stiamo guidando E' parecchio malavitico Eh anche lui Finita? Mamma mia E abbiamo pure niente La gara così finale Ci siamo intrufolati Nessuno capisce Di dove cazzo siamo arrivati Ma va bene 34 secondi di gara Giusto così Tempo di scendere dal vulcano E via Bello Eh direi E questo conclude Il Baja Ma ne abbiamo ancora altri Di capitoli Eh Bello però regal Mi diverto A fare queste cose Giuro Ah abbiamo un altro festival Come quello Malady Comoda sta cosa Abbiamo un sacco di basi Oltre alle case Sparse no In giro Sbloccato nuove gare Cross country Va bene Molto interessante Certo poter far tutto Col nostro Nuovo arrivato Super Bronco Magma Sarebbe stato Anche più figo Però vabbè Ci possiamo stare Alla fine Sono capitoli della storia Decino d'oro Che auto d'arte L'importante Che noi abbiamo Ricordato Questa grande giornata Di esplorazioni Con un mezzo speciale Da aggiungere Alla nostra collezione Che a me è piaciuto Tantissimo Nonostante non abbia Grosse modifiche estetiche Sia rimasto lui A parte la sirena sopra Con questa livrea Un pochettino così Lavica E abbiamo conferito Un bel carattere Spero siete d'accordo con me Fatemelo sapere nei commenti Io vi abbraccio Vi saluto Chiaramente vi aspetto Nel prossimo video Nel frattempo Instagram Ciao Ciao